anche se sono un po raffreddato come sentirete dalla voce volevo comunque fare questo video per parlare un po della situazione del petrolio se ne fa un gran parlare perché il petrolio insomma avrete visto è in caduta libera da ormai parecchio parecchio tempo da più di un anno e volevo farvi vedere che andando ad analizzare i grafici e facendo un po di analisi tecnica segnali a ribasso erano stati c'erano stati forniti dai grafici più volte durante durante questo periodo e in particolare guardate vado a farvi vedere il grafico a 5 anni magari con vedendo le barre settimanali e si era formato si era cominciato a formare nel già nel maggio del 2011 questo grosso triangolo simmetrico che era stato rotto in particolare direi con questa candela quindi 29 settembre del 2014 è stato il giorno in cui si è proprio decretato il momento ribassista del petrolio che poi non si è più fermato vedete come a maggio 2011 il petrolio toccava i 114 dollari a barile e la rottura è avvenuta intorno ai 92 92 dollari e questo era il classico perfetto segnale di analisi tecnica di entrata short che cosa ha cominciato a fare guardate ha cominciato a scendere e qui ha fatto questo doppio minimo e poi infatti è risalito un pochino però guardate è sceso ininterrottamente da settembre a gennaio 2015 senza mai tornare indietro qui ha ritracciato un pochino quindi è passato da dei minimi sui 43 dollari a barile è tornato poi intorno ai 60 ed è poi continuato a scendere ma in questo periodo vi faccio vedere guardate quanti altri segnali abbiamo avuto di per entrare ancora short abbiamo avuto quindi al vendendo abbiamo avuto questo grosso test spalla che si è formato da febbraio 2015 e si è praticamente concluso poco tempo fa a gennaio gennaio 2016 quindi altra opportunità per entrare short un'altra opportunità in questo fatemi passare a un anno daily si sarebbe potuti entrare anche sulla rottura di questo canale di questo rettangolo che si era formato su cui vedete qua il prezzo ha rimbalzato una due tre quattro cinque sei volte prima di rompere definitivamente l'11 novembre del 2015 quindi questo era già un altro segnale per andare short rottura della neckline del test spalla e come vedete qui il continuato a scendere quindi ha rotto prima da 43 dollari poi ha rotto sui 33 dollari a barile e infine vi faccio vedere adesso i sei mesi daily si è formato quest'altro piccolo testa testa spalla questo era un altro ve lo faccio vedere meglio così questa è una testa e no quella scusate quella è la spalla copia il testo questa era la testa fatemi spalla ok questa era la seconda spalla quindi seconda rottura della neckline che adesso vi vado anche a disegnare questa era anche un mini testa e spalla che ha continuato a rafforzare il come segnale il il momento ribassista del petrolio quindi qui c'era un'altra entrata se non era l'entrata qui sopra a questo canale era poco più sotto e effettivamente nonostante tutti dicevano il petrolio non potrà scendere sotto i 40 ed era appena dicembre del 2015 rottura grande di una candela con un passaggio di prezzo da 40 a 37 65 non potrà scendere sotto i 37 ha continuato a scendere non potrà scendere sotto i 30 e infine proprio in questi in questi giorni guardate queste candele hanno fatto adesso toccare veramente dei minimi storici a 28 addirittura a 28 e 30 bene che cosa ci possiamo aspettare perché a questo punto sono saltate un po' tutte le congetture dell'impossibilità di avere il petrolio sotto una determinata soglia di prezzo torniamo a vedere qua il valore del petrolio a mettiamo mensile esatto a 30 anni questi vedete sono i prezzi del 1988 e se guardate non è che ci siamo troppo lontani quindi adesso c'è una soglia importante una struttura importante che potrebbe fungere da resistenza o potrebbe ancora essere rotta intorno ai direi intorno ai 26 dollari ce n'è una ancora più grande ancora più importante perché ci sono il prezzo rimbalzato per più volte intorno ai 17 e infine ci sono veramente i minimi storici sui 10 dollari e se andate a leggere un po' gli articoli di analisi fondamentale adesso si dice che effettivamente è pensabile o comunque non è impossibile che il dollaro arrivi a valori vicini ai 10 a prezzi vicini ai 10 dollari a barile quindi come dire se avessimo seguito l'analisi tecnica e i segnali che ci ha dato in questi anni sicuramente avremmo ottenuto dei profitti molto importanti avremmo cavalcato questa enorme discesa e vi assicuro che basta un'operazione l'anno di questo tipo di analisi tecnica per portarsi a casa un profitto enorme ci vediamo presto colgo l'occasione anche per pubblicizzare la newsletter che sto lanciando settimanale su segnali di analisi tecnica quindi una newsletter in cui darò ogni settimana almeno un segnale di analisi tecnica e vi potete iscrivere gratuitamente attraverso il link che vedete pubblicato sotto questo video ci vediamo presto e buon trading a tutti